Salve, il mio nome è Julian. In questa clip vi parlerò della pizza, uno dei simboli culinari italiani più conosciuti al mondo. Ma che cosa pensi se ti dicessi che la pizza non è italiana? Per capire il ragionamento dietro questa decreazione provocatoria, dobbiamo approfondire l'idea di originalità culturale. La spiegazione avverrà in due parti. Per capire quanto sia italiana, la pizza, confronteremo la storia della pizza con gli ingredienti usati per farla. Come già saprete esistono tanti diversi tipi di pizza, dalle pizze moderne non italiane con ingredienti esotici come la pizza Hawaii all'ananas, fino alla pizza più semplici e originali come la pizza margarita. Ma la margarita non è stata la prima pizza. Questo merito appartiene probabilmente alla marinara, la quale risale al 1734, al contrario della pizza margarita che nasce un secolo dopo. Sulla pizza marinara non vanno messi né la mozzarella né il basilico. Nel giugno del 1889, per onorare la regina d'Italia, Margherita di Savoia, un cuoco napoletano decise di cucinare per lei una pizza che faceva riferimento al tricolore italiano, basilico, mozzarella e pomodori. È molto difficile controllare la leggenda sulle origini della pizza margarita perché ce ne sono davvero tantissime. Questo vale anche per l'etimologia della parola pizza. Esistono molte ipotesi. Per esempio, in ipotesi sostiene che pizza viene dal greco pita, mentre un'altra sostiene che pizza viene dall'alto tedesco bissen con il significato di pezzo di pane. Conviene passare alla parte sugli ingredienti. Visto che la margarita è considerata la pizza più famosa e più mangiata al mondo, è meglio prendere questa come esempio. La sua recetta forma la base di tante altre pizze e che ha dato il via alla fama mondiale della pizza. Gli ingredienti sono l'impasto, il fiordilatte oppure la mozzarella, la salsa di pomodoro ed il basilico. Su questi ultimi due vorrei raccontarvi qualcosa. La salsa di pomodoro è ovviamente fatta con i pomodori, anche se oggigiorno i pomodori sono legati fortemente all'Italia, non provengono dall'Italia. Vedete qua un'immagine di una pianta di pomodori presa dall'erborario di Mattioli. Quindi possiamo dire che i pomodori non appartengono alla cucina italiana, ma che infatti sono stati introdotti nella cultura culinaria italiana qualche secolo fa. Un altro ingrediente fondamentale per la pizza margherita è ovviamente il basilico. L'erba si chiama Ocumum basilicum, secondo la classificazione scientifica. Il basilico proviene dalla pianta del basilico ed è spesso associato all'Italia, in particolare alla Liguria, dove viene usato per usare il pesto verde. Tuttavia il basilico non è originario dall'Italia, ma viene dall'India. Dall'India l'erba si è diffusa nell'antico Egitto e nell'antica Grecia, ma venne usata solo per scopi medici e spirituali, come per esempio l'aromaterapia, ma anche per le imbalsamature dell'antico Egitto. Il basilico è stato circondato per un lungo periodo da superstizioni, come per esempio nell'antica Grecia, dove non veniva mai usato nella cucina perché avrebbe portato dolore allo stomaco e al fegato. anche nell'antica Roma era percepita come l'erba della sfortuna e dell'odio. Tuttavia poteva servire come antidoto allo sguardo motale al veleno fatale del basilisco, una figura mitologica a forme di serpente. Così nell'impero romano è stato spesso visto come simbolo diabolico della morte e dell'aldilà. Nel Medioevo, durante le crociate, era usato sulle navi per combattere i cattivi odori. Solo nell'Ottocento possiamo trovare dei testi che parlano del basilico come ingrediente culinario. In sostanza abbiamo scoperto che alcuni ingredienti che insieme creano una pizza non sono originari dell'Italia, ma messi insieme formano un prodotto tipicamente legato all'Italia. Spesso i turisti fuori dall'Italia associano immediatamente la pizza all'Italia. Com'è possibile? Ciò che abbiamo esplorato qui è l'idea di originalità culturale e le varie gradazioni. Per esempio, la pizza non è completamente italiana a livello degli ingredienti, tuttavia la pasta, i pomodori, la mozzarella ed il basilico sono stati combinati in Italia e dunque l'idea della pizza è nata in Italia. Visto che l'Italia è famosa per la pizza, possiamo concludere che l'aspetto dell'idea ha superato l'aspetto sostanziale e la pizza è diventata famosa come simbolo della cucina italiana. Dunque, non sono le origini degli ingredienti che rendono un piatto parte di una determinata cultura, ma la combinazione degli ingredienti per creare un piatto unico è riconoscibile. Grazie. 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 Grazie.